Da inizio era stato difficile, molto difficile. Paese diverse, leggi diverse, con il tempo ci siamo adattati. Ora lavoro, mio figlio va a scuola, gioca a calcio. Per questo siamo molte grazie all'Italia. Sostenere il percorso di inserimento di queste ragazze per noi di Autogrill ha significato avere un'opportunità in più per inserire talenti all'interno della nostra organizzazione. Per fortuna dopo due anni di Covid siamo tornati a viaggiare, quindi abbiamo avuto e tuttora abbiamo necessità di inserire moltissime persone all'interno dei nostri staff di punto vendita. Inoltre avere persone di nazionalità diverse costituisce un ulteriore elemento di valore. Ho trovato accoglienza molto bene perché già in Italia ho parenti. A lavoro faccio tutto, cassa, come barista, lavaggio, tutto. Ringrazio i miei colleghi che mi aiutano. Aiutano. Grazie a tutti